C'era una stanza nella casa, le cui pareti erano venite aperte da fogli scritti. I miei genitori avevano finito solo della carta operativa. Erano le dimostrazioni di mio studiarsi. Ero a me imparare in memoria alcuni passaggi. Mi appassionando sia la matematica, cominciai a prendere le lezioni civali. Ero a me imparare in memoria alcuni passaggi. 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 Grazie a tutti.